Mi confesso che, quando confermo e ordino, mi piace espandere bene il Crisma sulla fronte e sulle mani di quanto vengono unti. Ungendo bene, si sperimenta che lì si rinnova la propria unzione. Questo voglio dire, noi non siamo distributori di olio in bottiglia. Siamo unti per ungere. Ungiamo distribugendo noi stessi, distribuendo la nostra vocazione e il nostro cuore. Mentre ungiamo, siamo nuovamente unti dalla fede e dall'affetto del nostro popolo. Ungiamo sporcandoci le mani, toccando le ferite, i peccati, le angustie della gente. Ungiamo profumandoci le mani, toccando la loro fede, le loro speranze, la loro fedeltà e la generosità senza riserve del loro donarsi. Grazie. 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 Grazie.